salve a tutti dal bagatta games torniamo a scoppiare aerei con i nostri amici russi e non solo questa volta utilizziamo aerei di tier 3 quindi era 3 la prima volta abbiamo giocato con i neri di tier 1 e di era 1 non ci aspetta di sicuro eh ci ha sentito, ci ha sentito arrivare distrutto ok abbiamo preso il 1.2.7 è molto in alto sentito, distrutto portato di ala non abbiamo andiamo verso il db3 sentito, non è piccata di nico la e via di B3 bene ragazzi fatemi sapere che tipo di idea dobbiamo utilizzare ecco il P-47 ci mira in faccia e addio ci ha fatto fuori il motore ma noi l'abbiamo abbattuto via verso il P-40 volando d'inerzia senza motore ragazzi senza motore qualcuno che ci vuole affrontare qualcuno che ci vuole affrontare senza motore nessuno che viene verso di noi ecco 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 e andiamo ad attacco con il nostro LA-5 da qualcuno da uccidere fino alla fine della partita F4 un ostro no, è finita la partita beccato anche oggi è tutto per quanto riguarda War Thunder mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale commentate fatemi sapere con quali aerei volare la prossima volta ciao a tutti